Saranno 150 i biglietti nominativi a disposizione dei tifosi del Brindisi per la trasferta di Nocera e quanto disposto la questura di Salerno in merito al match che si disputerà domenica prossima alle 14.30 allo Stadio San Francesco. Ed intanto i punti persi dal Brindisi tra le mura amiche del derby con il Taranto, complice anche il vento che ha messo in salita una gara già di per sé difficile, hanno riportato la realtà a chi pensava che il Brindisi fosse già salvo. La strada per conquistare la permanenza è ancora tanta e il tecnico bianco-azzurro Ciullo deve fare i conti con una rosa cortissima. L'auspicio è che da qui alla fine del torneo i giocatori siano sempre al top della condizione e che ci siano sempre meno stop da parte del giudice sportivo, altrimenti sarà sempre emergenza. E intanto nelle prossime ore incomincerà ad allenarsi con la truppa bianco-azzurra Faccini, ex Barletta. La squadra non lesina impegno nonostante le diverse problematiche societarie che affliggono ormai da tempo a propri giocatori che provano ad isolarsi da ogni questione per concentrarsi sul calcio giocato. Il Brindisi, come si diceva, continua a correre in vista dell'impegno con i Molossi da valutare le condizioni di Dorato, che è afflitto da un problema muscolare, e di Dancora, non al top della condizione a causa di un problema ad un piede. I due però dovrebbero essere regolarmente in campo contro la Nocerina.